Il 33% degli aborti in Italia è compiuto da donne immigrate che, lontane dal proprio paese e in assenza di sostegno familiare, compiono scelte drammatiche che nella società e nella cultura di origine non avrebbero fatto. Sono i risultati dell'indagine commissionata all'OIULM di Milano, dal Dipartimento Politiche per la Famiglia e dal Consorzio Preferire la Vita, un'indagine presentata nel corso della giornata di studio promossa da Rete Donna. Il dato inquietante è che più del 33% degli aborti che si sono registrati nell'ultimo anno in Italia è stato effettuato da una donna straniera. Se pensiamo che sui 60 milioni di residenti e abitanti in Italia la popolazione straniera tra uomini e donne non supera i 5 milioni, capiamo che questa percentuale è veramente allarmante. Generalmente la donna straniera non ricorre quasi mai all'aborto per problematiche di salute o della mamma o del bambino, ma ricorre all'aborto per una grande insicurezza economica, ma ancora di più per un gran sentimento di solitudine nel momento della gravidanza. È emerso anche che un'elevata percentuale di donne intervistate non aveva presente, nel momento in cui ne avrebbe avuto bisogno, tutte le informazioni che in Italia si possono dare relative ai servizi di supporto, sia nel momento della gravidanza che nel post-gravidanza. Quindi queste donne hanno dichiarato loro stesse, a loro voce, che se ai tempi avessero avuto tutte queste informazioni, molto probabilmente avrebbero preferito la vita. I dati emersi dalla ricerca chiedono di pensare a politiche e azioni per una rete più efficace nel proporre alternative all'aborto. Tante vite potrebbero essere salvate, incrementando l'informazione sui servizi a sostegno della maternità. Nessuna donna, ad esempio, si è dichiarata consapevole della possibilità in Italia di essere tutelata rispetto a un partenio anonimato, quindi la possibilità poi di una volta già in ospedale magari non riconoscere bambino. Una delle prime cose da fare è una divulgazione dell'informazione, una informazione accessibile a queste donne, perché queste donne talvolta non comprendono neppure la nostra lingua, non sanno leggere, non sanno pertanto accedere a quei servizi che potrebbero dare loro indicazioni e aiuti.